Crescono ancora i contagi all'interno della comunità bengalese. Soltanto nella capitale i positivi sono già 77. Si tratterebbe di un focolaio di importazione. In settimana sono stati respinti per la prima volta, per motivi di sanità pubblica, 165 passeggeri provenienti dal Bangladesh, 40 atterrati a Malpensa e 125 a Fiumicino. Entrambi i voli sono stati diruttati in Qatar senza che fosse loro consentito di lasciare gli aerei. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sospeso per una settimana i collegamenti diretti con il paese. Clamoroso è il caso del 53enne, fermato giovedì a termini dopo aver viaggiato per cinque giorni, nonostante fosse positivo e obbligato all'isolamento. Abbiamo ascoltato alcuni negozianti nel centro di Roma per capire come la loro comunità sta vivendo questo momento. Sono preoccupato, ma metto sempre al primo posto la sicurezza. Indosso sempre la mascherina. Per noi non c'è l'amico di questo coronavirus, non c'è l'amico di questo paesano di questo coronavirus. Ho sentito ieri il telegiornale, è tornato a qualche paesano nostro, Fiumicino, però non lo so che è successo. Andato al mio paese con la lavoro Italia, ho portato il coronavirus là, adesso nel mio paese tanti coronavirus.